Sindaco ha approvato il piano esecutivo di gestione e finalmente la città metropolitana può partire con tutti gli strumenti in regola? Qua è stato un consiglio metropolitano molto importante, un grande senso di responsabilità dei consiglieri che sono rimasti perché l'approvazione del PEG significa servizi ai nostri cittadini, consolidamento del lavoro che sto facendo come sindaco della città metropolitana poi abbiamo approvato l'inserimento in Anci della città metropolitana, il sostegno al teatro Trianon e alla cultura della nostra città nonostante la legge del Rio non aiuti ad andare in questa direzione, altre delibere molto importanti sul bilancio un grande senso di responsabilità a differenza di altri, mi riferisco al Partito Democratico che invece ha deciso di abbandonare l'Aula in questo modo tentando di compromettere gli interessi strategici della città metropolitana, l'interesse pubblico, l'interesse collettivo funzionamenti di scuole, strade e di tutto ciò di cui i nostri concittadini hanno bisogno hanno bisogno di responsabilità delle persone e non di giochetti politico-partitici quindi un ringraziamento a chi è rimasto in Aula dando un grande, sottolineando appunto che col proprio comportamento ha salvaguardato il funzionamento della città metropolitana grazie grazie grazie